Power Absorb e Majin Power 180 con la 12 Grit Race Attack Kaioken e Grit Race Defense per un turno Colossal Damage mentre invece con la Ultra il contrario Kaioken ha la difesa del 50% e Grit Race Attack per un turno sarebbe stato meglio Kaioken per entrambi su entrambe le special anche perché purtroppo lanceremo una sola 18 per turno quindi il problema della difesa un po' rimane mi fa un po' pensare a Full Power Freezer sostanzialmente sostanzialmente oppure invertiti anche invertiti sarebbe stato meglio fare Kaioken la difesa con la 12 spammando le 12 che almeno con gli add avremmo aumentato di più la def vabbè avremmo avremmo già la def ho detto me lo so me lo ricordo infatti è proprio quello il fatto era da fare doppietta su entrambe le special anche perché poi non è che da transformato ottiene Kaioken va a turni ma andiamo con ordine allora si cura del 20% all'inizio del turno sempre chi più due attacca in def 200% 70% di chance di attivare la guardia e media chance di evadere quindi sostanzialmente non è chiaramente non si calcola così sono due chance diverse però hanno fatto 70% di guardia 30% di evadere però potrebbe succedere che non attiva né la guardia né evadere quindi non è che l'uno rattoppa l'altro purtroppo potrebbe succedere però anche l'inverso che attiva sia la guardia che evadere teniamocelo per quello che è 70% di attivare la guardia più due ki per ogni orb lancia un additional special almeno ce l'ha sempre un additional attack and def 50% e guardia per un turno a tutti quando siamo sotto il 90% di HP ok interessante interessante che comunque alla fine stare sotto il 90% è abbastanza semplice nonostante lui sia uno che si cura tantissimo ci può stare ci può stare quindi abbiamo comunque un probabile turno di guardia garantita più più la chance del 70% dai chance di evadere del 20% e sopravvive al KO up to once per turn ah quindi sempre ma quando siamo sotto l'80% di HP questo è buono ragazzi non mi è ancora capitato nelle run che ho provato non mi è capitato di Beccana Special che mi uccidesse però lo userei prima quindi è inutile 12% di cura extra oltre ai 20 quando siamo invece sotto il 50% quindi proprio alla peggio siamo sotto il 50% di HP ci curiamo 32% di HP ci sta ci sta come danni bassini si può dire bassini rispetto a quello che ci hanno abituato durante questo anniversario perché abbiamo attack and F200 sostanzialmente e poi un 50% al lancio ah no no aspetta non è manco al lancio no non è al lancio quindi è un 250% totale ok condizioni di trasformazione dal quarto turno sopra il 50% di HP vabbè abbastanza semplice infatti capiterà di poterlo trasformare subito anche se io sinceramente vi consiglio nel nel tenerlo il più possibile in forma boot anche se spammare le 18 per cercare di aumentare il più possibile da Def a Kaioken tanto comunque il suo compito lo fa lo fa abbastanza bene quindi tenderei a a boostarlo il più possibile in forma booting se puoi tenere come arma segreta l'acti skill metamorphosis shocky speed dual standing tall fear and fate imagine fear but legendary power allora questo buono in realtà non ha tantissime categorie cioè sono giuste embo saga transformation boost artificial life on kmma ma meno male che lo tiene final trump card machine power power absorb time limit sworn enemies e worldwide chaos in questo momento non non brilla di team sicuramente in transformation boost nel team di broly si può giocare il busaga a modo suo adesso è migliorato perché abbiamo sia vegeto che buon run abili nello stesso team però in questo momento non ci concentrerai troppo sul busaga perché tanto andrà a migliorare nei prossimi mesi in artificial praticamente lo useremo per chiudere quella missione di merda kamehameha ormai team abbastanza del cazzo che capiamo capiamo se lo droppo un altro leader che non è una serie final trump card un po' troppo legato ai super quindi cozza un pochino nel final trump card margin power abbastanza obbligato come pure in power absorb lì lo giochiamo sicuramente time limit team inesistente ma probabilmente pure questo avrà una miglioria ma secondo me sarà più uno di quei team da 30% sarà una categoria boostata al 30% sworn enemy mi aspetto che questo diventi un team in futuro molto forte mi aspetto un leader sworn enemy che rappresenti il manga di takobu che sia proprio il cattivo per eccellenza quindi prossimamente questo team secondo me diventerà bello tosto worldwide chaos ci può stare rannarlo anche nel team di di merged si può dire che adesso finalmente machinbu agl ha una spalla adesso è seria la cosa si può rannare che dite anginufriza ti piace io lo adoro si è carino però troppe cose da tenere conto non mi fanno godere appieno il personaggio in sé troppe troppe troppi cazzi è limitato lo trovo lì cioè bello forte ma lo trovo limitato un bel freezer final form leaders warn enemies ma guarda secondo me è fattibile questa cosa anche perché qual è l'altro leaders warn enemies mi sa che è proprio fpf quando fpf andrà ad ezza e quindi avremo un leader diciamo un sub leader 180 probabilmente tropperanno un final form freezer 200 e quindi abbiamo letto butings buan come vi dicevo perde qualsiasi kaioken però ottiene un risk attack and death per 4 turni con la 12 e anche con la 18 quindi tenerlo in rotazione comunque ci permetterà di gestire bene le stats però per questo motivo vi ho detto tenetevi tenetevi danni bassi nella forma butings per cercare di setapparlo il più possibile così poi quando trasformate in buan vedrete qualche danno in più e qualche difesa in più vabbè con la 18 sila ma questo lo facevo anche prima allora anche in forma buan sicura 20% di hp inizio del turno attack and death 250 e 5 ki lancia un additional garantito per 3 turni guardia a tutti guardia c'è la guardia attiva sempre alta chance di evadere stavolta è alta va bene però diciamo che nel complesso se tappando la difesa e avendo la guardia attiva e qua si comincia ad annusare quello che è gohan dentro di lui perché gohan dentro di lui gli fa avere la guardia attiva lancia un'altra additional special siamo già a 2 e quindi siamo a 3 in totale un'addizionale 2 ki per ogni orb un'addizionale attacca and death 50% e disabilita un'azione quando lanciamo la 18 per 5 turni questa cosa è fantastica ragazzi disabilitare un attacco del nemico per 5 turni con la 18 è top un ulteriore 100% di attacca and death invece a partire dal sesto turno sila il nemico per 5 turni una sola volta questa cosa non tiene senso perché comunque il sealing ce l'ha pure nella 18 ma non l'ho capito un'addizionale 50% di attacco quando siamo sopra il 50 no 50% di attacco temporaneamente the character next attack hp 50% more nendo turn hp 50% ok vabbè abbiamo questo 50% di attacco extra in base agli hp e poi si cura alla fine di un ulteriore 10% di hp quando siamo sotto il 50% di hp vabbè come prima insomma sotto il 50% abbiamo un ulteriore extra cura link in sostanza sono gli stessi di prima ma ottiene bbb quindi a me piace ragazzi chiaro non è allo stesso livello dei due dei due bros del sesto anniversario almeno per quanto riguarda la forma bootens siamo di nuovo siamo tornati su un pg da setappare in forma bootens cioè nella prima forma e poi avere qualcosa di meglio da trasformare se lo metti primo è il nemico special che fa seal e lo attivi comunque giusto allora però oggettivamente quanti sarebbero questi eventi che in una fase finale sono pure silabili cioè sono proprio pochi rasente a zero però una cosa interessante che al di là di quello che serve per trasformarlo questa passiva cosa ci dice che abbiamo cinque turni per avere questo e poi dal sesto turno c'è di quanto pensano che si allungheranno le run però è facile trasformare si 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 trasforma al quarto turno quasi subito però vi ripeto per me è meglio se dapparlo bene tanto si comporta bene no si comporta bene lo stesso anche in forma bootengs quindi è meglio se dapparlo e poi utilizzare la trasformazione come ciliegina sulla torta se questo è stato il nonno il decimo sarà follia capendo begito leader battlewits e busaga una bellissima combo eh ragazzi ma quello è sempre stato una bella combo solo che adesso è molto meglio molto meglio cioè battlewits busaga veramente una bella combo come leader cioè io mi posso rannare il busaga con piccolo nel turno comunque tralasciando la leader che secondo me è ottimo kaioken alla difesa con la 12 great 3 si attacca per un turno colossal damage kaioken alla difesa con la 18 ah vedi vedi qua già ragioniamo eh capito machinbu hai capito qua abbiamo kaioken su entrambe le special grittree si attacca per un turno anche con la 18 e mega colossal damage quindi sostanzialmente hanno proprio lo stesso effetto le due special con la differenza dei danni e basta come sempre xim shaftati no è shaftato bello bello tosto anche buone quindi 200% attack and f2 key riduzione del down del 30% un key per ogni orb lancio un addition con 70% che sia special media chance di grittare ah ovviamente ragazzi cioè non potevano farne a meno il pg adesso si build a full lado quindi sta striccione nelle chiappe per chi ce l'aveva full crit attack and f50 lancia un additional super attack quando entra una sola volta oppure no aspetta perché ne fai 50 lancia un additional super attack ah ok un extra quando entra una sola volta quando siamo sopra o sopra il 70% di hp 87% di hp un addizionale damage reduction e chance di grittare del 20% invece quando siamo sopra il 50% di hp quindi sostanzialmente quelli che si sono lamentati che il pg ha problemi difensivi da non trasformato che problemi hanno invece qua perché con 50% di riduzione del danno e poter lanciare 3 special praticamente se va male con kaioken la difesa sia nella 18 che nella 12 ma tutto a posto allora io vi dico subito che l'ho provato ho preso una special l'invaccio da gohan nella fase agl ha tankato perché viene messo prima e pensano che a 50% invece è solo 30% ma non si deve giocare prima ma non si deve giocare prima ma assolutamente ma se forse al massimo più buon che nonostante lui si deve eserrappare ma almeno c'ho la guardia e c'ho l'evasione questo io lo potei più che altro paragonare a quello che sono stati i gt boys perché comunque i gt boys dopo tot special hanno un 50% di riduzione del danno e raggiungono poco più sotto il milione di difesa però insomma almeno le devono lanciare 5 special lui comunque pur con uno special comunque avrà 50% di riduzione del danno quindi proprio deve andare malissimo ma se sta sopra di hp a 50% comunque non 30 stacca continuamente secondo me op ci sta no ma infatti è buono ragazzi è buonissimo a me piace anche anche così è una buona carta è una buona carta il problema sapete qual è è che non vedete i danni enormi perché sia lui che buono non hanno stats al lancio sono tutte addizionate questo c'ha 200% inizio del turno e 50% extra che non si calcola separatamente queste queste è che mo ci hanno abituato bene ci hanno fatto provare il dolce quindi mo voglio provare l'insalata però va bene è proprio inutile stare a dire però non fa gli stessi danni delle seste anniversarie che poi non è vero perché pure vegeta ha i suoi turni dove si deve setappare pure goku se non evate si deve setapp c'è di che stiamo parlando comunque condizione di trasformazione a contrario di majinbu lui si trasforma sempre al quarto turno ma sotto il 77% di hp quindi vi potrebbe capitare in una run fantastica dove non scendete mai di hp cosa che è capita a me da gohan anche perché ho montato un team che non tiene senso vi ricordo che str si può giocare nel team super saiyan e quindi c'è praticamente giocate il trio super saiyan leader gohan mirai lui kefla kabba ragazzi avete pure il buffer 60% ma a parte quello ci sono altri mille team dove giocarlo saiyan warrior race spirit fighter saiyan shoki guai mi ero completamente dimenticato della presenza di shoki speed top quindi linka pure con la bestia e con broli prepare for butter phase butter legend l'avevo rimosso shocking speed ci sta in attesa dell'ezza di gogetatek perché è chiaro che poi quando quando faranno l'ezza gogetatek avremo la spalla devastante e faranno mimi e koko tutte e due nel team super saiyan busaga potara pusayan joint force super saiyan kamehameha final trump card battle of wits accelerated battle fused fighter bondon master bondon parm scusate chi stesso maroni team su giant force serve a un leader nuovo serio anche se si potrebbe rannare i gov the boys begito 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 allora crit 3 attack and f per un turno colossal damage con la 12 crit 3 attack and f per un turno mega colossal e sila diciamo che da questo punto di vista non ha nullo da invidiare a buon che sostanzialmente ha un effetto simile ma lui è race attack and f per 4 turni quindi diciamo stacca almeno un pochino lui invece è soltanto in quel turno questo ci aiuterà a fare bei danni sui counter post special si cura totalmente quando quando entra in campo guardia attiva per 3 turni più 5 qui più 5 più 5 chi scusatemi attacca and f 250 alta chance di grittare un'addizionale chance di grittare del 20% per ogni attacco che fa conta anche i counter quindi più counter fa più gritta un'addizionale 30% di attacco quando riceve un attacco ok riduzione del danno del 30% fissa un'addizionale riduzione del danno del 30% quando riceve un attacco normale e chiaramente counter l'unica cosa che non ho capito perché non mi è capitato questa riduzione extra una volta che l'ha triggerata la conta solo sui attacchi normali oppure sulle special poi dopo cioè nel senso avrà dopo che ha ricevuto un attacco avrà fisso 60 di damage reduction solo questo non mi è chiaro comunque non mi è sostanzialmente sia con la 18 che con la 12 arriviamo nel turno in cui lo trasformiamo in vegito che avrà la guardia e potenzialmente 60% riduzione del danno ragazzi è un mostro chi più due per ogni orb così non ci facciamo mancare nulla un'addizionale di attack and death 77% ok e ci fa vedere la special per 10 turni questo 77% è sempre addizionale quindi niente di staccabile anzi no ce l'ha ce l'ha lo stack ce l'ha questo 30% di attacco ce l'ha ce l'ha quando subisce un attacco stacca 30% che si calcola separatamente raga è fatta si può giocare Vegito fisico non ironicamente lui ti fa vedere la special e Vegito lo mette a tangare gli attacchi